Fotochino 2014, Samsung presenta la nuova compassista e camera, compatto di intercambiabili NX1, completamente rivista, sensore a 30 milioni di pixel, reali scatto 28 milioni di pixel, nuovo processore Dream5 di casa Samsung, quindi la macchina iperveloce messa a fuoco 55 millisecondi, schermo touchscreen Super AMOLED 3 pollici inclinabile 90 e 60 gradi, con un ritardo e anche lo stesso dell'Electronic Viewfinder di un 5 millesimo di secondo, quindi realmente reale rispetto alla scena che sta scattando, grafica di scatti 15 frames al secondo, ISO estendibile da 100 fino a 51.200, inoltre NX1 è in grado di registrare video in 4K Ultra HD con un nuovo codec H.265, quindi permette circa di registrare su 16 giga 54 minuti di video. La macchina inoltre è un alto primato, è la prima compassista e camera oltre a Wi-Fi, Bluetooth, quindi con una semplice applicazione è possibile condividere in maniera immediata e veloce filmati e anche i video in 4K, il tutto in una scocca di magnesio che è ultra leggera ma è anche resistente agli urti, alla polvere e all'acqua. Su questa macchina vedete anche la nuova lente 50-150, S significa Supreme, quindi corpo in magnesio di casa Samsung con una focale 2.8, quindi ultra luminosa per la categoria. Il prodotto sarà disponibile a partire da fine novembre, solo corpo 1.499 euro, invece la lente separata 1.599.